I vecchi hanno tanto da darci, c'è la saggessa della vita, tanto da insegnarci. Per questo noi dobbiamo insegnare anche da bambini, perché accudano, che vadano dai nonni. Il dialogo giovani, bambini, nonni è fondamentale, è fondamentale per la società, è fondamentale per la chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Dove non c'è dialogo tra giovani e vecchi, manca qualcosa e cresce una generazione senza passato, cioè senza radici.